Hai mai sognato di vagare tra villaggi medievali incastonati tra le colline, dove ogni selciato racconta una storia e il tempo sembra fermarsi? Unisciti a me in un viaggio nel cuore della Toscana, dove i paesaggi sono dipinti con vigneti e cipressi, e ogni villaggio è un tesoro di arte, storia e tradizione. La nostra avventura inizia a San Quirico d'Orcia, un pittoresco villaggio situato nella splendida Val d'Orcia. Qui, tra la bellezza senza tempo dei paesaggi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, scopriamo un tappeto di fascino medievale e meraviglie architettoniche. Gli Orti Leonini, un giardino italiano del XVI secolo, ci invitano a passeggiare nel loro labirinto verde, dove natura ed arte convergono in perfetta armonia. La collegiata di San Quirico, capolavoro dell'architettura romanica, si erge come testimonianza di secoli di devozione spirituale ed espressione artistica. E mentre camminiamo per le strade di questo villaggio storico, seguiamo le orme dei pellegrini che percorrevano la via francigena, arricchendo la terra con racconti di fede e commercio. Procedendo, incontriamo le iconiche torri di San Gimignano, che si ergono come sentinelle sopra la campagna toscana. In mezzo allo splendore medievale di Piazza della Cisterna, il Duomo e la Torre Grossa, siamo trasportati indietro nel tempo a un'epoca di rivalità nobiliare e abilità architettonica. Eppure, San Gimignano non è solo una cittadina del passato, è anche un vivace centro della cultura del vino, dove la stimata vernaccia di San Gimignano è protagonista, incarnando la ricca eredità viticola della regione. Il nostro viaggio ci porta poi a Montepulciano, una città immersa nel grandioso rinascimento e rinomata per il suo stimato vino nobile. Qui, tra l'opulenza del Tempio di San Biagio e l'eterno fascino del centro storico immersi in un mondo di arte, architettura e buon vino. Le antiche cantine, scavate nel tufo sotto la città, invitano a gustare i frutti di tradizioni secolari, mentre ci immergiamo nei ricchi sapori dei nobili rossi di Montepulciano. Eretta maestosamente su una collina, Montalcino domina panorami della campagna toscana, le sue antiche mura custodiscono un'eredità di eccellenza vinicola. All'interno delle mura della fortezza, strette strade si snodano attraverso un labirinto di storia, portandoci alle rinomate cantine dove il Brunello di Montalcino regna sovrano. Qui, tra i sussurri dei secoli passati, scopriamo i segreti di questo prestigioso vino, plasmato con passione e precisione da generazioni di vignaioli. Nella visionaria città di Pienza assistiamo all'incarnazione degli ideali rinascimentali di città perfetta, sogno di Papa Pio II. Le linee eleganti del Duomo, del Palazzo Piccolomini e del Palazzo Comunale sono testimonianze dei principi umanistici, invitando a meravigliarci della loro bellezza. In mezzo alle strade tortuose di questa città idilliaca siamo trasportati dai sapori del pecorino di Pienza, un formaggio impregnato di tradizione. Scendendo verso sud, arriviamo a Pitigliano, un villaggio arroccato su una rupe di tufo e intriso di storia e leggenda. Noto come piccola Gerusalemme per la sua storica comunità ebraica, le strade labirintiche di Pitigliano sussurrano racconti di convivenza secolare. Qui, in mezzo alle antiche sinagoge e ai passaggi sotterranei, scopriamo l'antico patrimonio e le meraviglie naturali del villaggio, dalle antiche vie cave etrusche alle tranquille terme che invitano a rilassarci. Castiglione della Pescaia offre un fascino diverso, con le sue spiagge dorate e il suo fascino medievale che invitano i viaggiatori sulle sue rive. Mentre esploriamo le sue antiche strade e il castello medievale, siamo trasportati in un mondo di tranquillità e serenità, dove il tempo sembra rallentare ad un ritmo rilassato. Nella città natale di Giovanni Boccaccio, Certaldo Alto offre un viaggio attraverso la storia letteraria fra le sue case di mattoni rossi e le strade lastricate. Qui, tra gli echi di mercanzia, uno dei festival di teatro di strada più affascinanti d'Europa, abbracciamo il vibrante vivere medievale e la cultura. Incastonato sul confine meridionale della Toscana, Capalbio incanta con le sue mura medievali e le viste mozzafiato. In mezzo alle sue strade senza tempo e piazze scopriamo l'essenza della vita toscana, dove arte, storia e natura si intrecciano in perfetta armonia. San Miniato, con la sua famosa Mostra Mercato del Tartufo Bianco e le viste panoramiche, offre un assaggio di eccellenza culinaria in mezzo a un paesaggio di bellezza senza pari. Qui, tra i tetti di Tegole Rosse e le antiche torri, gustiamo i sapori della cucina toscana, siamo immersi nel fascino senza tempo di questo storico paese. Infine, rendiamo omaggio al trittico di Bagno Vignoni, Cortona e Montefioralle, ciascuno offre la propria miscela unica di storia, cultura e fascino. Con ogni selciato che percorriamo e ogni storia che scopriamo, siamo trasportati in un mondo dove il passato incontra il presente e dove ogni momento è un tesoro da gustare. Concludiamo il nostro viaggio attraverso i pittoreschi villaggi della Toscana con un invito a lasciare che il fascino di queste terre antiche vi accompagni nel nostro cammino. Che ogni torre, ogni piazza e ogni strada tortuosa continui a risplendere nei vostri ricordi, trasformando ogni passo in un'avventura senza fine. Grazie per aver guardato il video, ricordati di lasciare un like e di iscriverti al canale.